La nostra regione è una media superiore a quella nazionale per quanto riguarda il rapporto tra profughi ucraini che hanno presentato richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea e popolazione abruzzese. Una grande ospitalità resa subito operativa grazie alle tante strutture ricettive che si sono fatte trovare pronte con l'arrivo del flusso migratorio a seguito dell'invasione russa. Sì, il numero è ancora elevato, a parte qualche ricongiungimento familiare comunque non accenna a scendere perché ci sono ancora arrivi e vediamo come sarà la situazione in futuro perché non mi pare che si stia calmando in generale la guerra purtroppo. Per quanto riguarda invece i pagamenti alle strutture ricettive stanno arrivando in maniera regolare? La situazione si è sbloccata, definirla regolare no, però si è sbloccata. Ci sarà da vedere poi nel proseguo dell'inverno se ci saranno e dovranno esserci gli adeguamenti per il discorso delle bollette del gas perché ci troviamo di fronte ad una situazione di questo genere. Le bollette sono andate fuori controllo, le strutture devono anticipare le spese e sono veramente altissime, soprattutto per il riscaldamento. Finita l'estate ci sono adesso le strutture che chiedono di ospitare gli ucraini. Qui il discorso si riallaccia con il turismo in generale, diciamo di sì, c'era una grande preoccupazione per l'estate che alcune strutture avrebbero voluto essere più libere, mentre invece proprio già a fine estate c'è stata una maggiore richiesta della possibilità di ospitare gli ucraini proprio per un discorso di prezzi e per un discorso di salvaguardare la redditività aziendale messa a dura prova quest'anno dal pricing, dalle bollette e da tante altre situazioni. I profughi ucraini che hanno presentato richieste in Abruzzo sono stati distribuiti soprattutto in provincia di Teramo, seguita da Pescara, L'Aquila e quella di Chieti. La provincia di Teramo è quella più strutturata, è quella che ha il maggior numero di strutture, maggior capacità di accoglienza, è stata ampiamente erodata purtroppo nel corso degli anni da eventi sismici di tutte le situazioni, per cui diciamo che abbiamo questa capacità di affrontare la situazione.